Buongiorno amici e amiche di FC Inter News. Il lunedì che aspettavamo da tanto tempo l'Inter batte 1-0 la Juventus nel big match di San Siro, si porta più 4 in classifica con una partita in meno e mette una seria ipoteca a questo campionato. C'è ancora da lottare, c'è ancora da combattere però l'Inter ieri ha strameritato la vittoria e ha legittimato un dominio assoluto fin qui in campionato. Diamo il via a questa nuova settimana con il nostro Alessandro Cavasini, ben ritrovato Alessandro. Ciao ciao, buongiorno Raffaele e un buongiorno a tutti quanti. Buongiorno dalla capolista perché possiamo dire Alessandro che la vittoria di ieri era vittoria arrivata sul campo che zittisce tutte le chiacchiere, tutti i discorsi che qualcuno ha sostenuto in queste settimane, qualcuno ha voluto preparare un terreno scomodo in vista di questa partita, ma l'Inter di Simonin Zaghi ancora una volta, lo dobbiamo sostenere, ancora una volta risponde come meglio sa fare, con la palla a tre piedi, con una prestazione incredibile da tutti i punti di vista. Ecco, magari l'Inter poteva segnare un gol in più sicuramente per le palle e gol avute, ma non ha mai appunto dato la sensazione di poter subire la Juventus, una grandissima prova di compattezza, di solidità incredibile da parte della squadra di Zaghi. Nessuna sorpresa, lo sai come lo penso, ne abbiamo parlato pure la settimana scorsa e io te l'avevo detto anche qui, su questi canali, sulla prestazione dell'Inter ci avrei messo la mano sul fuoco. Poi il risultato può dipendere da tanti fattori, ma è chiaro che quella di ieri è stata un po' la nemesi, la fotografia esatta di quello che è la Juve e tutto il suo contrario, perché tante volte la Juventus ha giocato borderline e l'episodio è andato a suo favore, ieri ancora ha subito nettamente l'avversario, tatticamente in Zaghi 10-0 su Allegri, punita poi da un episodio, quello è il paradosso, no? E forse proprio c'era qualcosa di Medusa dagli spalti che ha colpito, perché il paradosso l'Inter ha creato penso qualcosa come 7-8 palle e gol, poi uno se ne dimentica pure alcune, per esempio io ieri mi ero dimenticato quella di Lautaro a porta vuota dopo l'uscita sbagliata di Scesni che fa andare ad impattare su Militari, a porta vuota Lautaro sbaglia, per dire, me ne ero scordato, segno di quanto l'Inter abbia creato e poi alla fine viene decisa da un autogol, forzato chiaramente dall'azione dell'Inter che attacca con tutti gli uomini praticamente, ma questo è proprio segno di come poi le cose debbano andare, è chiaro che il vantaggio dell'Inter resta risicato rispetto a quello che si è visto per tutto l'arco della stagione, ma lo strapotere rispetto alla Juventus è stato qualcosa di abbagliante per chi finora evidentemente ha visto gli occhi, il campionato con occhi un po' distratti. Sì, perché poi no, ci sono i numeri, i numeri sono veramente incredibili, l'Inter Alessandro dopo 22 partite a quota 57 punti, gli stessi dell'Inter di Mancini, l'Inter dei record, che chiuse quel campionato con il record dei punti ben 97, parliamo ovviamente di numeri incredibili, l'Inter ha vinto sei partite su sé, le prime sei del nuovo anno, questa è la terza volta che accade la storia dell'Inter, c'è anche un'incredibile statistica sulla differenza reti, più 41, a questo punto del campionato una squadra, erano 63 anni che una squadra appunto non raggiungeva il più 41 dopo 22 giornate di campionato, sono numeri veramente incredibili. Io ho la sensazione che non ci stiamo rendendo conto di quello che noi stiamo vivendo, di quello che noi stiamo vedendo, probabilmente ce ne accorgeremo tra qualche anno più in là, perché sappiamo come il calcio si è fatto di cicli, quindi terminerà anche l'era dell'Inter di Simoninzaghi, è probabilmente soltanto lì, perché anche questo è il bello del calcio, godere il presente, entusiasmarsi altro, però poi racconteremo i posteri, l'Inter di Simoninzaghi, che veramente ora sta andando dritta dritta verso la seconda stella. Alessandro, tra le varie chiacchiere, tra le varie chiacchiere nei saluti televisivi, si è parlato a lungo di Paramatti, che io credo che sia un difensore che tutto sommato ha dimostrato forse di essere pagato relativamente poco rispetto al valore reale. La prestazione ieri di Benjamin Pavard, Alessandro, è la testimonianza perfetta della tesi che il calcio è per pochi, probabilmente, una prestazione sontuosa da tutti i punti di vista, quella di Pavard, possiamo dire che ieri è stata la consacrazione di Benji l'interista e soprattutto Alessandro nell'azione del gol, la rovesciata ma è l'inserimento di Pavard che finalmente si è bastorizzato, dopo un avvio comunque tutto sommato, possiamo dire a rilento, ma era questione di partite, di settimane, di mesi, perché Pavard è stato preso anche per quelle caratteristiche e ti devo chiedere il confronto perché io credo che Pavard abbia aggiunto qualcosa in più a scrignarla dal punto di vista proprio tattico. Beh, c'è una qualità di base ovviamente superiore a vantaggio del francese, nell'uno contro uno non ha nulla da invidare a Skriniar e ripeto, ha una pulizia, poi Skriniar adesso tutti noi abbiamo un ricordo sporcato dal fatto del mancato rinnovo, ma la storia di Skriniar all'Inter parla anche di uno scudetto vinto, di coppe, di solidità, no? Quindi non è che dobbiamo rinnegare tutto poi per... sono due discorsi che vanno distinti semplicemente. Pavard, a mio parere, ma non da quest'anno, da quando giocava nello Stokkar, aveva salvare Monaco, ha vinto il mondiale, eccetera, c'è sempre stato su cura da Skriniar, anche questa per me non è una sorpresa. Alcuni per esempio ieri si sono sorpresi, eh io non immaginavo, no? Nei vari salotti che anche tu citavi. Immaginavo un Sommer così, ho capito, un'altra po' fa quarant'anni Sommer, se tu sei un football addicted e ti occupi di quello, non conosci Sommer, non è che l'hai preso dall'Uzbekistan con tutto il rispetto del campionato Uzbekistan. Quindi va bene chiedere scusa, tutto quello che vuoi, però magari fai altro nella vita, tutto qua, insomma. E se uno dice Pavard, tant'altro, è costato... io qua l'abbiamo detto agosto, ho detto per me è costato pure poco, perché tu paghi trenta che va in scadenza, è compri il tempo, nel senso che hai un anno Pavard in più. Quanto vale secondo te quell'anno in più di Pavard? Trenta? Secondo me ben pagato trenta. E quindi alla fine come vedi poi il cerchio si chiude, tu perdi Lukaku, ma guadagni Tioram e guadagni Pavard, che comunque prima di arrivare a Milano non erano questo Pavard e non erano questo Tioram, quindi valore al lavoro di Inzaghi eccetera eccetera e vedo che tanti adesso si stanno scatenando e noi quello diciamo, almeno io personalmente lo dico dal giorno 1 in cui Inzaghi è sulla panchina dell'Inter, perché poi si fa presto a dimenticare da dove si arriva. Eppure a scuola ci hanno sempre insegnato che per sapere dove devi andare devi ricordare da dove arrivi, però sono lezioni che un po' e quindi sì, Paragone secondo me ci sta, ma Pavard è sempre sta, ha sempre avuto qualcosa in più di schiena, senza nulla togliere la schiena che resta un difensore ottimo. È chiaro che poi in questo contesto sembrano tutti dei fenomeni. Esatto. Poi vanno via dall'Inter o prima di arrivare all'Inter non erano esattamente fenomeni, quindi il discorso che se l'avevamo detto qualche tempo fa no, l'Inter si è atalantizzata, nel senso che quando giocano lì sembrano tutti, quindi occhio perché il gioco è di squadra. E valutare ieri il fatto che Tiuram e Lautaro non abbiano così tanto brillato, ma l'Inter ha fatto una prestazione enorme, evidentemente c'è qualcosa anche nel loro lavoro oscuro, tanto per essere chiari. Cito Adani, no? Perché ieri la domenica sportiva è diventato virale il suo sfogo contro queste teorie sul fatto che l'Inter appunto sia superiore sulla carta della Juventus, ma numeri alla mano, prendendo anche le ultime sessioni di mercato, in realtà ci si accorge che l'Inter è superiore alla Juventus per il lavoro fatto in campo. E' citato bene tu, no? Somme, Pavard, Turamo, possiamo citare Michitalia, possiamo citare Darmian, possiamo citare Di Marco, possiamo citare, secondo me, ecco, questo forse è il caso più eclatante di tutti, ma ne parleremo nei prossimi giorni, Cialanoglu, perché Cialanoglu Pay è un'invenzione totalmente inzaghiana e ora abbiamo, se non il primo, ma sicuramente uno dei tre registi più forti al mondo, però ecco Pavard, perché Pavard è un campione assoluto, un fuoriclasse assoluto, che a prode in Serie A sceglie l'Inter perché ovviamente conosce come gioca l'Inter, sa che nell'Inter può ancora di più migliorare e soprattutto al fianco di Simone Inzaghi. Pavard che abbiamo visto ieri, personalmente non c'entra nulla con il livello della Serie A, questo lo dico sinceramente, parliamo veramente di un giocatore superiore da tutti i punti di vista, non rineghiamo assolutamente quello che è stato il rapporto tra Schina e l'Inter, però ecco, avere un bastone in più anche sulla destra, perché questa è la sensazione, no? Un giocatore che comunque si fa vedere in avanti, anche ieri Darmian sembrava spingere di meno, anche per favorire ormai, no? Gli inserimenti di Pavard che praticamente faceva il braccietto di difesa, ma faceva anche la mezzala o sull'azione delle golle. Secondo quinto praticamente, sì. Esatto, praticamente è un l'Inter, ecco, è una macchina perfetta, abbiamo secondo me aggiunto qualcosa in più rispetto alle passate stagioni, questo per me è l'Inter più forte in assoluto, perché con Sommer, Pavard e Turam abbiamo alzato ancora di più la qualità, con Ciaranogo a posto di Brozzi, ma questo ne pareremo nei prossimi giorni, quindi Alessandro godiamoci questa vittoria e io ti chiedo, arrivati a questo punto, no? Più quattro, abbiamo una partita in meno, è ancora lunga, è assolutamente ancora lunga, però Alessandro, io prima davo un'occhiata ai big match dell'Inter, l'Inter ha pareggiato soltanto con la Lumento, sarà andata, ha vinto poi su qualsiasi campo in Serie A, ha vinto anche le due partite di Supercoppa, lo step in più questa squadra, ormai lo ha fatto, lo possiamo dire. Sì, perché c'è il come, noi ne abbiamo sempre discusso qui, noi siamo stati sempre coerenti, no Raph? Abbiamo sempre parlato del come anche nei momenti di buio, anche nei momenti di blackout, abbiamo sempre detto sì, ma come ha perso l'Inter? Cioè l'Inter è una sconfitta come quella della Juve? Io non la ricordo, parlo dell'Inter di Inzaghi chiaramente. L'Inter ha perso delle partite, ma non così, non rinunciando a giocare per un tempo o provando due o tre sortite, mischioni, rimpalloni. L'Inter ha sempre avuto una sua identità in questi tre anni, quasi tre anni di Inzaghi e il lavoro paga, poi puoi vincere, puoi perdere, ma sai che sei lì e non è un caso se c'è Brozovic e diventa il miglior regista d'Europa. Poi va via Brozovic, c'è Ciaccianola e diventa il miglior regista d'Europa. E poi c'è Lukaku e diventa il miglior centravanti d'Europa. E poi c'è Tioram e diventa il miglior acquisto inaspettato. Quindi se cambiano tutti, ma non cambia tutto. Cioè l'Inter ha cambiato 12 giocatori. Ieri sentivo Allegri parlare di noi in questi tre anni abbiamo cambiato 15 giocatori. Caspita, l'Inter ne ha cambiati 13 in un anno. Di che parliamo? Senza andare a fare i conti di Dani. Peraltro Dani è vero, ieri è stato uno dei pochi, anche perché in quel consesso sembra Mosè. Io ho detto la domenica sportiva, Dani sembra Mosè lì messo lì. Pure è vero che lui insieme al suo amico Cassano l'anno scorso elogiavano di Pioli e dicevano Inzaghi fallimentare se non arriva in finale di Champions. Quindi noi invece qui per tre anni abbiamo sempre detto queste cose perché guardiamo le partite, perché c'è il lavoro e va dato merito. Infatti poi ieri anche è tornata questa parola, l'ho sentita spesso, il lavoro è lavoro. Meno male, ci sono arrivati buongiorno anche qui. E sulle partite l'Inter non solo vince, ma prende zero gol col Napoli in Supercoppa, zero gol con la Lazio in Supercoppa, zero gol con la Juve in campionato, zero gol a Firenze e subisce praticamente un tiro a parte il rigore, quello di Buonaventura. Anche quella è crescita, non solo la fase offensiva, perché poi l'Inter perfetta no, perché se fosse stata perfetta ieri la partita sarebbe finita 8-0 perché facevi tutte le palle e gol, purtroppo manca chiaramente qualcosa. Già che ti porti a casa t'arrai mezzi e rischi, qualcosa forse migliore. E questa è una sensazione. Già stiamo avanti. Ecco, di stagione in stagione poi sembra veramente aggiungere un tassello in più. Complimenti comunque a tutti, ovviamente i complimenti vanno anche stesi alla dirigenza, alla società, perché veramente si è creato un qualcosa di unico, tra società, squadra, Misser, Tifo, veramente l'Inter è una macchina perfetta. Siamo ancora al 5 febbraio, quindi c'è ancora da lottare. Possiamo dire anche la nostra fortemente in Europa, ci attende una doppia sfida, secondo me, veramente, veramente importante contro l'Atletico Madrid, che comunque sta vivendo, secondo me, una delle sue migliori stagioni anche dal punto di vista del gioco. Quindi non molliamo, non dobbiamo assolutamente mollare, però godiamoci questo lunedì festoso, questo lunedì alla Sydney, come direbbe qualcuno. Alessandro, io ti ringrazio, ti saluto, ci rivediamo presto sui nostri canali. Grazie, grazie a te Raffaello, un saluto a tutti. Ovviamente invito tutti coloro che hanno seguito il video a lasciare un commento, a dire la vostra. Noi ci rivediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto per continuare a festeggiare insieme e continuare a parlare di Inter-Juventus. E non mi resta che lasciarvi con un carolosissimo, sempre.